ciao io sono marco ti do di nuovo benvenuto sul mio canale ti invito come sempre ad iscriverti lasciare un like un commento un suggerimento e seguirmi anche sui miei social come facebook io sono iscritto a un gruppo di facebook di utilizzatori di waves è un gruppo grosso ogni tanto riposto i miei video e in un video precedente che metto qui sopra ti metto in descrizione ho fatto una paragone fra il bus compressor della waves, l'SSL bus compressor e l'SSL native originale della SSL un utente che ringrazio per i commenti e lo saluto ha chiesto una cosa la differenza fra l'SSL channel e il nuovo mix hub ora io ho la fortuna che li ho tutte e due allora io ho scritto che avrei fatto questo leggero video comparativo quindi niente di trascendentale aprirò, li ho messi su un loop di batteria, su una batteria registrata non trattata quindi ho preso i settaggi, li ho messi identici ho aperto l'infiniti EQ della slate, così mentre farò switchare da uno all'altro potete anche vedere se e cosa cambia quindi prima di cominciare iscriviti, lascia un like, un commento e andiamo a vedere cosa succede quindi iniziamo ad aprire l'SSL e l'infiniti EQ ovviamente vi tolgo anche la mia telecamera, così vedete meglio allarghiamo anche questo e ci siamo allora questo qui è l'SSL channel vi faccio vedere, chiudo un attimo questo apro un mix hub ok, perfetto diciamo di questa cosa qua allora, come input non ho cambiato niente è zero, quindi non c'entra ho fatto i filtri, non li ho utilizzati ho utilizzato un po' di alte come vedete, sui 10.000 anche qua 10.000 io ho dato 3db 3db ho tagliato qualche cosina sulle medie o basse e poi ho fatto un boost intorno ai 300 ora, apriamo, iniziamo dall'SSL tradizionale apriamo l'infiniti Q e facciamo partire l'infiniti Q 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 ok, direi che ho fatto girare abbastanza io ho notato una cosa particolare nella seconda parte del video che cosa sono andato a fare sono andato ad inserire un filtro passalte devo dire che, adesso vi farò vedere una cosa interessante così lo vediamo insieme sganciamo questo guardate la curva come taglia del SSL channel rispetto al mix hub ok, inserisco il mix hub è rimasto in memoria più o meno l'altra via allora, secondo me il mix hub perché è voluto così da Chris Lord Algy questo filtro è meno cattivo stranamente cioè si nota proprio qui adesso ve lo faccio riandare mentre abbasso un po' il volume e sentirete questo è il mix hub ok vedete come sale SSL channel voilà va molto più giù taglia molto più più diretto quindi effettivamente ovviamente qualche differenza c'è vedete qua per esempio vedete rimane comunque sempre un po' di di questa parte qua rimane rimane adesso cambio eccolo qui va giù quindi in conclusione le macchine si assomigliano molto secondo me il mix hub è un po' più di punch un po' più di 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 ciccia come si dice e ha molta più ciccia qua specialmente sui filtri sull'alte ho notato che più o meno lavorano simili sulle Q sul compressore siamo secondo me il mix hub è un po' più di di carattere rispetto al al classico le channel e questo perché come giustamente dicevano nel gruppo sono due macchine diverse simili ma diverse quindi hanno delle caratteristiche che si accomunano specialmente secondo me sulle Q specialmente sulla parte media, medio alta dove cambiano secondo me sono i filtri che ho visto dei workshop con Chris lui li usa tanto e e soprattutto secondo me cambiano leggermente la parte di compressione quello di il mix hub ha un pochettino più di di grinta un po' più di carattere mentre l'altro è un po' più standard quindi spero che con questo video di avervi fatto di averti avverti fatto compagnia ti rinvito ad iscriverti lasciare un like un commento e dirmi se per caso tu sei riuscito a sentire qualche differenza io al momento li sto ascoltando in cuffia quindi consiglio sempre questi video se potete ascoltateli in cuffia o con delle casse buone ti risaluto e ti auguro una buona giornata ciao